Musica Al termine della riunione ministeriale della Nato a Bruxelles, il ministro della difesa Roberta Pinotti ha detto di essere contraria alla fornitura di armi in Ucraina. Sentiamo. C'è un dibattito sull'opportunità di fornire armi alle truppe ucraine. L'Italia da che parte sta in questo dibattito? L'Italia è contraria all'idea di fornire armi all'Ucraina. Noi pensiamo che la tensione sia già troppo alta e questa sarebbe una misura che aumenterebbe ulteriormente la tensione fortissima che c'è. Noi pensiamo che si tratti invece di diminuire la tensione e di raffreddare il clima. C'è stato chiesto un sostegno per quello che riguarda la copertura aerea della Lituania. Noi abbiamo fatto degli interventi negli ultimi dieci giorni e abbiamo dato una disponibilità. Grazie. Grazie. Grazie.